Musica Oggi parliamo di IMT, l'Istituto Lucchese di Altistudi. Dal primo novembre il cambio della guardia al vertice è diventato operativo. Fabio Pammolli lascia il timone dell'Istituto Lucchese ad Alberto Bemporad, che con i suoi 42 anni diventa il più giovane rettore universitario italiano. Pammolli rimarrà come docente ed anche nel Consiglio di Amministrazione. Il neorettore fiorentino, laureatosi a soli 23 anni in Ingegneria Elettronica, è pronto a giocare le sfide che lo aspettano. Io eredito da professor Pammolli un istituto in una condizione di esemplare dal punto di vista della qualità scientifica, della solidità finanziaria, cosa che non è ovvia nel sistema pubblico italiano. L'obiettivo principale della nuova direzione che mi accingo appunto a Puerta Levanti da questi giorni e per i prossimi tre anni è quella di sviluppare ulteriormente le dimensioni dell'Istituto e di riafforzare il legame che abbiamo con il territorio della città di Lucca. IMT si è affermata dal 2005 come istituzione universitaria di alta formazione e ricerca, quadruplicando il fondo di finanziamento ordinario stanziato dallo Stato, ottenendo importanti riconoscimenti da parte della comunità scientifica e della stampa internazionale, dimostrando una forte capacità di attrazione di progetti di ricerca e soprattutto presentando una situazione finanziaria particolarmente solida e virtuosa in relazione all'elevata efficienza dell'azione amministrativa e all'originalità del modello organizzativo. In questi anni IMT si è distinto in particolare per la forte apertura internazionale delle selezioni per allievi e docenti. L'Istituto di Alti Studi si basa, nello specifico, su tre ambiti di competenza tra loro integrati. L'insegnamento, essendo una scuola post-laura che propone agli allievi di dottorato, scelti su base competitiva e meritocratica, alcuni programmi che spaziano in diverse discipline culturali. La ricerca, perché questo istituto è punto di riferimento per ricercatori e docenti, selezionati sulla base di procedure competitive internazionali. E infine l'ambito tecnologico, con lo sviluppo di un modello organizzativo disegnato per combinare qualità scientifica e rilevanza applicativa. Abbiamo superato la fase di start-up, ha precisato Pammolli nella conferenza stampa di presentazione di BEMPORAD, in cui abbiamo avviato un lavoro importante. Ricordo, ha aggiunto Pammolli, quando studiavo alla scuola di Sant'Anna 22 anni fa. Nulla in confronto a quello che è oggi un traguardo che è stato reso possibile dall'assestamento dei fondi per l'università. Noi, ha concluso Pammolli, siamo partiti con 1.400.000 euro e non era affatto scontato che quattro anni dopo saremmo arrivati a oltre 5 milioni. E su questo punto sia lo stesso Pammolli che il presidente della Fondazione Cassa, Arturo Lattanzi, hanno lanciato un monito. Oggi IMT è finanziariamente sano, anche grazie a regole ferre sulla gestione, e ha raggiunto livelli di eccellenza altissimi, passando dalla fine del 2011 da una fase strettamente didattica a quella della ricerca applicata. Un patrimonio culturale e formativo che la città deve sentire suo e deve difendere con forza tutti i livelli per non perdere, anzi per incrementare i fondi che lo Stato destina alla ricerca e all'università. Insomma, non basta l'impegno costante del territorio attraverso la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca per sostenere un progetto accademico di livello eccelso come IMT, il quale tra l'altro può vantare strutture di accoglienza e aule per la didattica di primissimo livello, alle quali entro l'estate si aggiungerà il nuovissimo campus ricavato dalla Fondazione Cassa nel complesso di San Francesco. Con l'avvio del nuovo anno accademico, IMT conterà circa 160 allievi in corso e 9 docenti fra interni ed esterni, professori attentamente selezionati con un'età media di 37 anni, i migliori nel loro campo, insomma. In 4 anni, dagli IMT sono usciti 120 allievi con un dottorato di ricerca in mano che oggi sono impiegati nelle migliori università italiane e straniere e aziende pubbliche e private. Grazie a tutti!